Per eccesso o per difetto io posso dire che forse stasera ho visto una gran bella squadra, l'altra volta col San Marino abbiamo vinto ma stasera mi è sembrata un Arezzo convincente. Se devo guardare il risultato preferivo la partita di domenica però dai ora a parte gli scherzi stasera le ragazze comunque hanno fatto una buona prestazione, è normale che perdere dispiace sempre anche se c'è stata una buona prestazione però dobbiamo anche cercare il lato positivo e vedere che prestazione è stata fatta perché sennò poi diventa difficoltoso. Io credo che la squadra abbia dimostrato di essere in partita per 90 minuti, ha cercato di giocare, ha cercato di fare quello per cui avevamo lavorato in questi pochi giorni e quindi sono contento. Tra l'altro si può dire che un primo tempo hai giocato quasi alla pari, dopo è venuta forse meno, era una squadra molto fisica. Sì, è normale che le capacità, le qualità di una squadra di Serie A che si allena tutti i giorni rispetto a noi che abbiamo ragazze che lavorano e che si allenano molto di meno, a pensare di avere le stesse capacità, le stesse qualità allenandosi tre giorni alla settimana è anche impensabile. Altrimenti faremmo i professionisti e ci alleneremo tutti i giorni anche noi. Quindi abbiamo cercato di fare il massimo, quello che era possibile, cercando di far vedere un buon gioco, cercando di far divertire la gente e spero che la gente sia divertita e che la prossima volta venga più numerosa allo stadio. Certo, si comincia ad affrontare scogli difficili. Ebbè sì, questo è stato il primo di Coppa Italia, poi avremo più avanti la Roma, però come ho già detto queste partite fanno crescere tutta la squadra e quindi serviranno nel cammino che abbiamo in Serie B. Probabilmente ancora non siete a livello preparazione al top perché si vede nel secondo tempo, il primo tempo è stato, avete affrontato la partita in modo quasi alla pari. Nel secondo tempo qualche passaggio sbagliato, qualche cosa e poi la sfortuna del doppio... Sì, diciamo che il comune è una squadra di Serie A, sicuramente i ritmi lo sapevamo già che sarebbero stati più alti, è una squadra che si allena 6 giorni su 7, fa solo quello, mentre noi no. Quindi questi piccoli dettagli comunque alla lunga in una partita fanno sempre la differenza. Che cosa avete pensato quando è andato male quel doppio colpo davanti al portiere che ha fatto due paratoni? Eh vabbè, quelle cose purtroppo succedono, come noi siamo stati fortunati sulle due attraverso loro, noi le occasioni, purtroppo le occasioni che creiamo con queste squadre dobbiamo capitalizzarle tutte, purtroppo è andata male. Senti, domenica a Brescia, una partita assolutamente difficile, dicono che Brescia è uno che vuole vincere il campionato. No, ci sono tante squadre come l'anno scorso che vogliono vincere il campionato, poi l'anno scorso è una squadra tosta che l'anno scorso ha lottato fino alla fine con il Como, quindi ci attende un'altra partita difficile. Grazie. 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 Grazie.